eccoli che si abbandonano ci abbandonano se non l'avete capito stanno andando a nico ciao stanno andando nico io invece farò un giro qua per tokyo aspettando magari di trovare qualche bella presente intanto che aspetto sono arrivato sul punto panoramico dietro di me vedete il palazzo dell'asai e la sky tree tower di tokyo 650 metri in altezza è veramente imponente la sera poi è tutta illuminata vedrò di farvela vedere in questa parte invece c'è il tempio di asakuza e tutta la via commerciale e una breve panoramica di questa zona di tokyo siamo all'ottavo piano del palazzo delle informazioni sto girando nella via commerciale di asakuza vicino al tempio ci sono ancora queste case più classiche mentre la c'è già il caos quello che state vedendo è la via principale che porta al tempio che lì sullo sfondo con la porta di accesso davanti con tutti i negozietti di pacottiglia per turisti una volta erano proprio attività commerciali ma si sono trasformati questo è l'interno del tempio di asakuza come potete vedere un qualche cosa di molto diverso rispetto a quelli di chioto e questo è il giardino che c'è poco fuori comunque molto bello stavo cercando l'abitazione del bacca san dovrebbe essere circa metà di questa via se non ho capito male ma nemmeno i pulotti sono stati in grado di darmi indicazioni questo vi fa capire quanto in realtà sia complicato il sistema delle vie giapponesi adesso cercherò un access point per chiamarli di raggiungermi che facciamo prima alla fine li ho trovati ma non rispondono ma vediamo se riusciamo a trovarci a questo punto stiamo stiamo osservando il bagno della casetta c'è qualcosa elettronico per accendere qualsiasi cosa poi dopo qua vedi accendi e dici metto la temperatura qua no devi accendere qua e poi dopo ti dà la temperatura e poi vai su dietro comunque dico ha fatto la docia fredda perché si qui invece è l'anticamera del bagno vedete grande dici starebbe lavatrice la vasciuga volendo qui il bagnino questa qui la cucina l'angolo si corridoio cucina cesso perché mancava ah giusto infatti c'è ok bagno tecnologico questo è il soggiorno dove vediamo della gente svoltata ma perché per sfruttare gli spazi si si giusto bene quella che vedete è la stanza da letto di diego piccolissima poi c'è un armadio e infine la vista esterna sulla sky tree tower come solito l'audio di questo video ha deciso di non venire fuori allora qua mi suggeriscono di provare anche la fanta alla mela però intanto c'è questa sangaria sangaria per bambini vedo la pesca tutte altre cose adesso facciamo una prova ma quindi non è alcolico alla fine no lo senti subito che non è alcolico è un bibitone altrettanto sicuramente non è sangaria no è sangaria è sangaria beh però alla fine non è cattiva è buona è di pesca gasata eh si è una pesca gasata la nota di fondo è di pesca la raccolta della plastica signori l'efficienza della raccolta ah ah è oggi c'è nel pudine sì sì una skyline una skyline per il bobo è la tua la vorresti? vabbè lì c'è anche un murales ovviamente anche stavolta ha fatto il giro lungo però ci arriviamo avanti sta arrivando il tram che tra un poco prendiamo ciao e questo è uno dei tram più vecchi l'unico ancora che gira tram classico di tokyo queste sono le ultime due stazioni questa è la toei a rakawa line arriva anche quell'altro diretto verso nord mezzo giorno e 35 e questo è il Joyful Minowa una linea commerciale al chiuso come potete vedere è molto chiusa fra l'altro è chiuso e chiuso sì è meglio? no direi di no meglio quello che state vedendo sono tre pezzi di yakitori spiedini di pollo io mi avventuro in questa cosa solitaria loro non mi danno una mano riporterete il mio cadavere a casa se non sopravvio? se non lo mangiano gli orsi dell'Hokkaido sono natura contro la terra se sei visto siamo sopra la rakawa line si è appena messo a piovere chiaramente con la solita fortuna che abbiamo però ci hanno fatto salire senza prendere il biglietto giornaliero perché non li aveva finiti in Italia ce lo saremmo ascoltato ma ditemi una cosa com'era l'Hokkaido? fresco fresco per il resto? naturale da vedere? da vedere allora ci andiamo dai da vedere e mentre vedete passare il moderno Tremino qua ci sono quelli vecchi sempre della stessa linea c'è una specie di deposito dietro chiaramente è aperto solo sabato la domenica e le festività solita fortuna si quello che state vedendo è un granchio di fiume se vedete il movimento in mezzo all'acqua dritto di fronte a voi questo è stato costruito tutto nel periodo Edo erano tipo di Diego ed erano del una specie di parco dell'imperatore con delle rapide e delle cose così eccolo la granchietta di nuovo c'è poca acqua come vi avevo detto questo è una specie di parco divertimenti prima dell'imperatore adesso è comunque stato restaurato e riaperto come vedete delle piccole chiuse delle cose così e anche una piccola ruota da mulino mentre il bacca san prova di entrare in acqua fredda fa malissimo fa malissimo e devi soffrire guardate sei pronti o dita stesso? italiani oggi alle 17 guardate un ingegnere che sta provando di parcheggio perchè il parco non sa cosa sia perchè è in inglese probabilmente le avranno comprate da degli americani queste qua questa è una carrozza dei tram e quello davanti un vecchio treno a vapore Boris afferma che questa pioggia e questa giornata visto come viene non siano l'ideale per una zitta al parco che noi abbiamo fatto invece siamo finalmente arrivati al Gokokuji Temple questa è l'entrata vediamo il bobo intanto che cambia l'ossigeno ai polmoni che ne aveva bisogno è un chilometraggio elevato questa è la strada che porta invece al tempio che però è già chiuso quindi faremo un giro nel parco facciamo un filmato al gatto coccolone giapponese facciamo un filmato al gatto coccolone giapponese dormono vicini guarda questi gattoni qua sembra il tempio dei gatti questo qui abbiamo trovato solo dei gatti qua dentro tutto chiuso però sembra molto bello e per me meriterebbe veramente una visita quando è aperto nell'orario massimo alle 5 in estate meglio arrivare entro le 4 per vedere tutta l'area molto bello per oggi salutiamo i nostri baldi compagni mi rivedremo forse domani al mercato del pesce ciao ragazzi allora non dobbiamo dirlo a nessuno ma mi è giunta voce che Ivan è stato impezzato da una kogar ok? giapponese non diciamolo a nessuno però eh è un segreto adesso sono arrivati tutti com'è stata Nicco com'è stata? bella bella peccato che non avevamo più tempo per fare il giro anche nel parco che secondo me sarebbe stato ci vorrebbe fare qualche donna di auto sì sì quella cosa lì se la vuoi fare in due giorni ci vuole vabbè andiamo a cercare da mangiare e vediamo cosa è salta fuori sta diluviando siamo arrivati a serata stiamo mangiando in un ristorante il podo io propongo un brindisi a base di ortata Kampai benissimo qui invece due isolati io non ho il tavolo davanti ma è andata peggio vabbè dopo andiamo a vedere un po' il panorama notturno mentre piove beh insomma è sua fascina ho portato tutti a vedere il panorama notturno di la jacuzel della torre la torre è praticamente inghiottita dalle nuvole del brutto tempo e ha il suo perché ti fa capire quanto è alta e questo qui invece è il tempio è la via di Asakusa tutto illuminato domani non so che cosa succederà visto il brutto tempo si pensava Kamakura ma le previsioni sono incerte forse salterà Kamakura non lo so vedremo sei incerto chi è venuto esatto ehm